Imparare l'inglese è stata una delle scelte migliori che potessi fare quando era uno studente e ha contribuito a tante delle belle esperienze che ho fatto nella mia vita, tra cui vivere in due paesi stranieri come Inghilterra e Germania. Se avete deciso di iniziare a fare questo percorso oppure siete ancora indecisi, sappiate che le opportunità che derivano da questa scelta cambieranno per sempre la vostra vita. Ciao a tutti, io sono Federico e dopo 5 anni di vita all'estero e una laurea in lingue ho deciso di condividere con voi 5 motivi per cui imparare l'inglese è una scelta giusta oggi, a prescindere dalla vostra età e a prescindere dal fatto di volersi trasferire all'estero o meno. Quindi mettetevi comodi e parliamone. Motivo numero 1. Espandere il vostro orizzonte sociale. Sappiamo tutti che l'inglese è parlato da circa un miliardo e mezzo di persone, è la lingua universale della comunicazione, che significa che imparare l'inglese vi consentirà di conoscere persone che vengono da tutto il mondo. Non necessariamente di persona, ma anche su internet. Durante la mia esperienza di vita tra appunto Londra e Berlino, grazie all'inglese sono riuscito a conoscere persone che vengono dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Grecia, quindi è bellissimo poter creare tutte queste relazioni con persone che vengono da vari paesi del mondo. Il secondo è che imparare l'inglese consente di pensare in un modo completamente diverso rispetto al quale siamo abituati nella nostra lingua. Imparare una lingua straniera consente di vedere il mondo da un'altra prospettiva. Grazie all'inglese cominciamo a capire che non c'è solo il nostro punto di vista del mondo, ma c'è anche il punto di vista di tutte le persone che parlano inglese e quindi percepiscono alcune cose in una maniera diversa. Punto numero 3 è che imparare l'inglese vi darà una carica di autostima incredibile. Riuscire a esprimersi in un'altra lingua, riuscire a comunicare, a farsi capire e capire in un'altra lingua vi darà una carica tale che sarà molto utile anche in vari aspetti della vita che magari vi rendono insicuri. Numero 4 è l'accesso alla conoscenza. Imparare l'inglese vi consentirà di andare su internet e fare qualsiasi tipo di ricerca su Google in inglese. avrete la possibilità di accedere al 60% dei siti, paragonato al 2% dei siti disponibili in italiano, avrete un catalogo incredibile da cui ricercare se conoscete appunto l'inglese. Numero 5 è che imparare l'inglese vi aiuterà a viaggiare con fiducia il più delle volte in molti paesi del mondo dove l'inglese è parlata come seconda lingua. Quindi vi aiuterà a esplorare il mondo con molta più sicurezza, tranquillità e facilità. Poi potremmo stare qui ad elencare mille altri motivi più comuni come la possibilità di trovare lavoro, la possibilità di vedere film in lingua originale, leggere libri, che sono tutti motivi validi, ma siccome ci sono tanti altri video a riguardo non vi annoierò, però voglio condividere con voi una curiosità che forse non tutti sanno ed è quella che imparare l'inglese fa bene alla vostra salute e in particolare al vostro cervello perché riduce i rischi di perdita di memoria e demenza a prescindere dall'età, dalla professione che uno svolge e dal genere. Quindi ragazzi e ragazzi spero che questi motivi vi abbiano spinto, motivato a fare questo passo di cui sicuramente non vi pentirete mai perché non importa dove siate, quanti anni abbiate, imparare l'inglese vi darà accesso a una serie di opportunità infinite e cambierà la vostra vita per sempre. E se vi iscrivete al canale cercherò di contribuire al massimo, a rendere il vostro percorso di apprendimento il più facile e divertente possibile condividendo strumenti pratici, consigli e strategie per diventare dei campioni in questa lingua. Grazie e ci vediamo presto. Ciao!